Bravo Evacuo a prendere posizione, colpetto a servire Pierno, poi si allarga sulla destra il 17. Pierno riesce a fargli arrivare il pallone, allora Evacuo punta l'aria, serve al limite dell'aria Baldassin, Baldassin la finta, Baldassin col destro! Trova il primo gol in maglia giallorossa, Luca Baldassin! 2-0 per il Catanzaro, che chiude praticamente questo match, o quasi, prestazione sontuosa delle Aquile! In emergenza, in difficoltà, il carattere dei giallorossi, il destro di Luca Baldassin, che trova il 2-0, Catanzaro 2, Catania 0! Catanzaro 2, Catania 0, ha segnato con numero 23, Luca Baldassin! Non ha presenza dal primo minuto in questa stagione, sulle 25 totali, da quando è arrivato a Catanzaro per il 26enne di Vittorio Veneto, primo gol in maglia giallorossa, per Luca Baldassin, battuto sul primo palo Martinez, nulla da fare per il Catania! Grazie a tutti!